Una sconfitta che dà fastidio, probabilmente meritata, perché ho trovato una squadra che ha voluto ottenere risultato. Noi qualcosina abbiamo concesso e quindi questo non va bene. Dobbiamo crederci e ripartire ancora più forte. La contestazione fa parte del momento. È una squadra che era uscita da tre partite dove le cose erano andate bene e oggi è inceppata in una partita probabilmente sbagliata. Sì, perché avevamo poca incisività davanti, mi sembrava che ci arrivasse troppo poco davanti. Quindi abbiamo preso poi un gol che si poteva assolutamente evitare da calcio piazzato. E quindi ho cercato di cambiare la partita subito, ma non ci sono riuscito. Sì, credo che abbiamo fatto una buona gara sulla falsa riga delle altre. Abbiamo fatto anche in passato buone gare anche a Roma City domenica scorsa. Abbiamo perso la partita per una disattenzione. Adesso invece siamo stati in partita per più tempo, quasi fino alla fine. Peccato per quel gol che abbiamo preso all'ultimo su una piccola disattenzione. Ma sono contento della prestazione della squadra. La squadra ha fatto una buona gara, poteva fare più gol. E' lì che dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere perché quando abbiamo la preda in bocca non ce la dobbiamo far scappare. In alcune circostanze siamo stati un po' leggerini in qualche ripartenza. Potevamo fare più gol, ma siamo contenti dei tre punti e andiamo avanti con fiducia. Sì, il calcio è così. Possono cambiare le situazioni da un momento all'altro. Noi dobbiamo metterci sempre del nostro, dobbiamo lavorare con grande serenità, con grande voglia, dedizione. Perché la squadra ha dei valori buoni e dobbiamo metterle solo in pratica. Adesso ci riposiamo e martedì testa subito la partita di domenica che è un altro scontro diretto.